Salve a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Video totalmente incentrato sull'ufficialità di Mattia Felici. Nuovo giocatore del Cagliari, arriva dalla Feral Pisalò per circa 2 milioni di euro, a titolo definitivo, contratto fino al 2027, con prolungamento, opzione di prolungamento per la stagione successiva. Che dire, era un colpo che, insomma, se ne stava parlando ormai da un po', l'ufficialità è arrivata due giorni fa circa, un colpo abbastanza interessante per il Cagliari, ma che lascia un po' di, diciamo, quesiti, si può dire, che andiamo a sannacciolare piano piano. Arriva appunto dalla Feral Pisalò, quindi da un club di Serie B che è stato retrocesso in Serie C. L'anno scorso, insomma, la Feralpi, da neopromossa, non è riuscita a fare una grande stagione nella cadetteria e quindi è scesa subito in Serie C. Purtroppo, appunto, ha dovuto lasciar partire Mattia Felici, giocatore che comunque si è messo in mostra con il club Lombardo, portando a casa un bottino comunque tutto sommato non male di 4 gol e 5 assist. Secondo anche la Coppa Italia sono 4... no, perdonate, 5 gol e 6 assist in 38 partite. Parliamo... vedendo questi numeri, insomma, parliamo sicuramente di un esterno, ok? Parliamo di un esterno prettamente offensivo, che però anche con la Feral Pisalò ha giocato come esterno a sinistra a tutta fascia. In un 3-5-2. Adesso mi lascia un po' perplesso a me questo acquisto, ma non tanto perché si tratta di un giocatore giovane che è arrivato dalla Serie B, perché Cagliari comunque ci ha un po' abituato in questi anni a dei colpi un po' esotici, anche in questo senso. È una scommessa che per certi versi potrebbe essere fondata, perché comunque Felici era la prima stagione di Serie B, quella appunto appena trascorsa, dove ha fatto vedere comunque buone cose, nonostante le prestazioni del collettivo della Feral Pisalò non siano state buone. Però comunque lui ha fatto il salto dalla C alla B e non l'ha assolutamente sofferto. Adesso vedremo se il salto più grande, diciamo, tra la Serie B e la Serie A riuscirà, diciamo, a reggerlo, perché, insomma, ci sono tanti calciatori che dalla C alla B, insomma, riescono ad adattarsi abbastanza facilmente, dalla B alla A è già molto diverso. Adesso io voglio fare subito un paragone, perché io credo, a questo punto, che l'acquisto di Felici vada un po' a togliere spazio e quasi sicuramente a panchinare a tutti gli effetti, un giocatore come Paolo Azzi, che adesso non so, non si è parlato moltissimo di una cessione, però, visto appunto l'acquisto di Felici, difficilmente Augello se ne andrà via da Cagliari dopo un anno tutto sommato onesto, penso proprio che appunto Paolo Azzi potrebbe a questo punto essere ceduto, o a questo punto, non lo so, essere tenuto come terza scelta, quarta scelta, visto che magari sa giocare sia a sinistra che a destra, lo puoi tenere per questo motivo. Però ecco, vorrei soffermarmi proprio su questo, cioè Paolo Azzi, giocatore che è arrivato dal Modena nell'anno in cui eravamo ancora in via, è arrivato nel mercato invernale. In Serie B si è dimostrato un giocatore di tutto rispetto, nonostante non fosse un terzino. Comunque poi con Ranieri ogni tanto giocavamo anche a tre, quindi Azzi si è visto anche come esterno a centrocampo e faceva abbastanza bene. Il salto però alla Serie A, primo anno in Serie A anche appunto dell'Italo-Brasiliano, non è stato molto positivo. A mio modo di vedere Paolo Azzi si è dimostrato abbastanza in difficoltà, da un punto di vista proprio di adattamento ai ritmi della massima Serie italiana. Perciò l'acquisto di Mattia Felici potrebbe un po' ricalcare quello che ha fatto Paolo Azzi per certi versi. C'è da dire che potrebbero essere due calciatori diversi per proprio caratteristiche, perché Felici è proprio attaccante ragazzi, cioè Felici ha tutti gli effetti, secondo me è un esterno che andrebbe messo in un 4-3-3, ok? Se vogliamo paragonare un calciatore io ce lo vedo molto in stile sottile, ok? Il giocatore che abbiamo imparato a conoscere, che adesso sta alla Fiorentina e che è stato a Cagliari per quell'anno del 2020-2021, se non vale rato. Per il resto sì, ecco, una cosa molto importante è che, ecco, voglio proprio paragonarlo a Paolo Azzi, è proprio che il... come si dice? Ok, no, perdonatemi. Paolo Azzi, pur essendo, appunto, un esterno offensivo, in Serie B le sue lacune in fase difensiva diciamo che non si vedevano particolarmente, specialmente perché Cagliari era una delle squadre da battere, no? Quindi i cali, insomma, di concentrazione dal punto di vista difensivo di Azzi a volte si intravedevano di più, altre volte venivano, diciamo, un po' mascherati. Anche se c'erano e ci sono tuttora, perché in Serie A poi si è visto, tutta la sua, diciamo, incompetenza, è un po' brutto da dire, però incompetenza nella fase difensiva. E Felici dovrà fare, appunto, un lavoro del genere. Adesso è già in gruppo, si sta già allenando con il resto della squadra da Seminello, quindi seguirà già tutto il ritiro, quindi Nicola avrà tutto il tempo per plasmarlo come vuole lui. Però, ecco, avrà bisogno di tanto tempo proprio per migliorare quella che è la fase difensiva, perché in un 3-5-2 un quinto deve saper fare bene entrambe le fasi, offensiva e difensiva. È un acquisto, ripeto, secondo me molto interessante, però lascia un po' di punti interrogativi, perché, appunto, è a tutti gli effetti una scommessa. Una scommessa, anche lui, appunto, come Azzi, ha il suo primo anno in Serie A, vedremo se riuscirà a fare, appunto, il doppio salto, vedremo come si comporterà, anche da un punto di vista proprio di gerarchie, perché io credo che Augello sarà sempre, comunque, il titolare, però magari l'inserimento di Felici, magari la partita in corso a difese stanche, potrebbe essere anche una buona soluzione, magari per affondare poi il colpo, considerando, appunto, che, considerando che Augello nasce più come un terzino, quindi prettamente difensivo, avere una soluzione un po' più offensiva, come Felici, potrebbe garantirti, magari, una maggiore superiorità, dal punto di vista offensivo, poi magari in una partita che, magari, in cui ci troviamo in svantaggio. Adesso sto ipotizzando. Vedremo poi come si comporterà anche nelle prime gare di precampionato, adesso ci sarà il test contro la primavera, che, vabbè, sarà una prima sgambata, presumo, il 19, e poi avremo il primo test ufficiale contro il Como, che adesso non ricordo di preciso quando è, però comunque sarà una prima amicavola importante per il Cagliari, perché, insomma, capiremo subito qualcosa, da un punto di vista tattico, tecnico, di come Nicola sta plasmando il suo Cagliari. E vedremo, appunto, come verrà inserito Felici. Adesso capiamo un po', però c'è da dire una cosa, ragazzi. Io ho stimato veramente tanto, io ogni sera, adesso mi sto guardando la live di 131, dei ragazzi di 131 che sono dei grandi, che raccontano, insomma, quello che avviene ogni giorno in ritiro, almeno quando il campo è aperto alla stampa. E il carissimo Francesco Aresu ha fatto un articolo molto, molto interessante, che io vi inviterei a leggere, riguardo proprio il modus operandis del Cagliari in queste azioni di mercato, e anche un po' prima, perché non si può pensare di fare il passo più lungo dalla gamba, ragazzi. Cioè, adesso noi guardiamo tutte quelle società, Lecce e Genua, che vendono i loro calciatori a peso d'oro, vendono e comprano subito, oppure hanno un grande settore giovanile e quindi rivendono i propri fenomeni a 15-20 milioni di euro dopo un anno. Ragazzi, il Cagliari non è mai stato così. Il Cagliari non lo è mai stato e forse non lo sarà mai, per come lo stiamo vedendo, o meglio, almeno nel breve non sarà così. Quindi non ha senso andare a criticare quello che è... Cioè, in realtà si può, perché, nel senso, ogni tifoso, chi non vuole che la propria squadra venga acquistata da un arabo, venga acquistata da un... da uno sceicco che mette sul mercato 100 milioni di euro, ti compra quello, 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 e vai subito in conference. Chi non lo vorrebbe? Cioè, ragazzi, io sono il primo che lo vorrei, che vorrei il Cagliari in conference, vorrei vedere il Cagliari in Europa, perché sarebbe micidiale. Ma bisogna guardare la realtà, bisogna guardare in faccia la realtà e bisogna vedere in che realtà siamo. E in questo momento Cagliari non può pensare di fare il passo più lungo della gamba, proprio perché si sta affrontando un momento di piccoli passi, piccoli passi ma fatti bene. Questo è il modo di operare in questo momento da parte della società. E se questi piccoli passi vengono fatti bene, ognuno di questi passi viene fatto bene, allora si arriverà a un risultato, a un primo risultato, che magari potrebbe essere quella di, attualmente, credo, stabilirsi in Serie A stabilmente, nella massima serie. Un po' appunto come ha fatto il Bologna. Ragazzi, il Bologna adesso, con tutto che è il Bologna, è una squadra che adesso ha raggiunto la Champions League. Ma perché l'ha raggiunta la Champions League? Perché prima di arrivare a giocarsi l'Europa con Tiago Motta, che ha fatto una stagione stellare, il Bologna ha fatto stagioni e stagioni di completa metà classifica. Ok, scusate il taglio. Quindi, delle stagioni, diciamo, sempre meglio, ok? Magari sono partiti, considerando che anche loro sono risaliti in Serie A, più o meno, forse un anno prima, rispetto a noi, quindi nel 2016, loro sono risaliti, hanno incominciato a salvarsi piano piano, in maniera tranquilla, sempre più tranquilla, fino ad arrivare stabilmente nelle posizioni, diciamo, di metà classifica, ok? Decimo posto, nono posto, undicesimo, dodicesimo, stavano lì. Non rischiavano la salvezza, non rischiavano di andare in Europa, però stavano lì. Poi hanno deciso di fare il grande salto, facendo cosa? Con i giocatori magari un po' più buoni, perché comunque il Bologna, ragazzi, nel tempo, ce n'è avuti i calciatori forti. Adesso l'ultimo che mi viene è Aiki, che è stato venduto, se non sbaglio, a 30 milioni, o qualcosa del genere. O Tomiyasu, che era stato venduto per 30 milioni all'Arsenal. Adesso stanno vendendo zigzag. Cioè, è un modus operandi, molto diverso da quello del Cagliari, che però il Cagliari potrebbe ricalcare, per certi versi, facendo delle piccole, vincendo, diciamo, delle piccole battaglie, per arrivare poi a vincere questa, chiamiamola guerra, anche se è brutto dirla così, usare termini bellici non è proprio il periodo migliore, però è questo, ok? Quindi è inutile, da parte nostra, tifosi, sperare che il Cagliari faccia una stagione da decimo posto, da ottavo posto, settimo posto. Non ci dobbiamo nemmeno sperare. Cioè, sì, sperarci sì, ma capite bene che non è reale una cosa del genere. Cioè, se succede, siamo tutti quanti felici, ma non succede. Siamo tutti felici con Mattia. Ma non succede, ragazzi. Cioè, bisogna guardare in faccia la realtà. E adesso, anche la scelta di prendere Nicola, è proprio il fatto che Cagliari vuole continuare su una strada tracciata già da Ranieri, quindi, una strada tracciata bene dal tecnico romano, per arrivare poi a stabilirsi piano piano in Serie A. E poi da lì si vedrà. Ok? Questo è quello che io voglio, che in questo momento credo che il Cagliari debba fare. E che sta facendo. Ed è la cosa più giusta. Per quanto io non... Lo dico, ragazzi. Nemmeno io stimo particolarmente Giulini, stimo particolarmente Bonato, o l'intera società del Cagliari. Non so quanto mi faccia impazzire adesso. Però, il modo di operare del Cagliari in questo momento non è sbagliato. Questo è il punto. Proprio perché si devono fare piccole cose, ma fatte bene. Per arrivare poi ad avere l'obiettivo raggiunto. Poi, non lo so, ragazzi. Fatemi sapere la vostra. Mi sono dilungato poi, oltre a Felici, insomma, fatemi sapere anche su questo. E niente, io vi saluto. Forza! Casteldu sempre! E ciao ciao!